Un neonato di soli due mesi è morto all'ospedale Paterno Arezzo, dove era stato ricoverato dopo il peggioramento in seguito alla somministrazione di un vaccino obbligatorio. L'episodio è avvenuto sabato scorso. Ora la procura ha aperto un'inchiesta e scritto come atto dovuto nel registro degli indagati delle persone, tra cui del personale medico dell'ASP. Gli avvisi di garanzia firmati dal PM Valentina Botti sono stati notificati dai carabinieri di Ragusa per consentire l'autopsia che sarà eseguita in giornata. Il neonato aveva avuto la normale vaccinazione di routine, ma con il passare delle ore le condizioni del piccolo peggioravano, tanto che i genitori hanno deciso di portarlo all'ospedale, dove poco dopo il bimbo è deceduto. La direzione dell'ASP 7 precisa in una noto ufficiale che il piccolo è giunto al pronto soccorso dell'ospedale Maria Paterno Arezzo alle 11 e mezza di sera. Secondo quanto riportato all'atto del ricovero, il piccolo presentava condizioni gravi con diagnosi precedente di malformazione cardiaca congenita. Approntate immediatamente le cure del caso, il bimbo è stato trasferito presso la divisione di Neonatologia Eutin, l'unità terapia intensiva neonatale, dove però, nonostante le cure prestate, alle 6.45 è deceduto. In seguito alla denuncia dei genitori sono state avviate le indagini dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore. I militari dell'arma hanno acquisito la cartella clinica del neonato e hanno notificato alle parti interessate oltre 10 persone tra personale dell'ASP e dell'ospedale un avviso di conferimento d'incarico per l'autopsia prevista per oggi.